ciao ragazzi da vittorio mi avete chiesto di fare un video sulla vicenda cerbi e quindi sono qua a parlare del mio giudizio sulla vicenda cerbi se non sapete cosa è successo la curva nord ieri ha fatto comunicato stampa dicendo che fischieranno a cerbi e che a cerbi deve essere ceduto subito non deve più vestire la maglia della lazio prima una considerazione l'ambiente lazio è un problema nel senso che la lazio viene da due vittorie costruttive cosa che non succedeva da inizio stagione e anziché festeggiare celebrare vedere il lato positivo riusciamo sempre a fare polemica dopo la vittoria contro genoa ve lo ricorderete sul messaggero era uscita una fake news detta anche da maurizio sardi che minico i savic aveva litigato con sarri e sarri voleva la cessione di minico i savic che minico i savic non avrebbe mai più giocato con la maglia della lazio ovviamente ieri minico i savic titolare e capitano oggi dopo la vittoria importantissima contro venezia perché ripeto il venezia è una squadra tosta soprattutto fuori casa creiamo un'altra polemica sulla vicenda a cerbi cosa che fa male alla lazio troviamo sempre un modo nuovo per danneggiare la nostra squadra e questo mi manda veramente ai matti parliamo della situazione a cerbi ho fatto già un video la scorsa settimana dopo brutto gesto di a cerbi e il giudizio non cambia a cerbi secondo me è un momento di confusione è un giocatore che ha perso un po la bussola sia nelle prestazioni in campo sia nei suoi atteggiamenti fuori quel gesto fatto contro genoa è stato un errore a cerbi fece un video dopo chiedendo scusa secondo me la vicenda si doveva chiudere la i tifosi della lazio contestano che lui non sia venuto a salutare la curva a parlare chiedere scusa dopo venezia lazio beh a cerbi era infortunato a cerbi non stava bene perché continuare andare verso la curva anziché andare in spogliatoi e farsi medicare subito visto che ha chiuso in campo la partita infortunato ha chiuso in campo la partita quello secondo me era un segnale decisamente positivo perché cerbi poteva mettersi fuori farci giocare in 10 e dire io sto male eccetera eccetera invece ha stretto i denti e ha giocato fino all'ultimo secondo ovvio non poteva camminare per cui non è che ha fatto molto però almeno è rimasto in campo per cui io dico quello non può camminare deve venire fino alla curva per chiedere scusa mi sembra che è una cosa gratuita una cosa che mi sembra abbastanza scontata che non facesse visto che non è al massimo dal punto di vista fisico anzi è infortunato per cui non capisco questa polemica a cerbi mi sta piacendo no l'ho detto anche nell'altro video i suoi attenziamenti soprattutto fuori dal campo mi lasciano molto perplesso ho l'impressione che a cerbi come ho detto più volte abbia perso la via però chiedere la cessione dire che non deve mai più giocare con la maglia della Lazio mi sembra un errore grave finché indossi la maglia della Lazio il tifoso della Lazio lo deve sostenere poi finita la partita puoi fischiare puoi criticare eccetera finché c'è la partita bisogna sempre applaudire i giocatori della Lazio sempre incoraggiarli perché alla fine sono loro che scendono in campo e se tutti i giocatori della Lazio giocano con la determinazione e la grinta giusta la Lazio può ottenere i risultati se tu metti sotto pressione e fischi a cerbi sicuramente il giocatore non aiuterà non darà un massimo sarà in difficoltà e che ci rimette a Lazio solo a Lazio a cerbi lo stipendio prenderà sempre e quindi mi sembra una scelta che non condivido non condivido assolutamente loro citano abbiamo fischiato altri giocatori eccetera e io ripeto sono stati i gesti che mi trovano in disaccordo siamo riusciti a fischiare alessandro onesta ragazzi siamo riusciti a criticare alessandro onesta per cui veramente atteggiamenti che non condivido da parte della curva poi ognuno è libero di fare quello che vuole ci mancherebbe però il mio giudizio è che finché a cerbi resta un giocatore della Lazio non va fischiato non va messo in difficoltà perché poi mette in difficoltà la squadra non non è il giocatore singolo e quindi secondo me è un errore a cerbi deve fare un bagno di umiltà sicuramente però questo non mi sembra il modo giusto per farlo rinsavire e si finisce solo per danneggiare la Lazio mi fa un male incredibile che la Lazio l'ambiente Lazio anziché festeggiare queste due vittorie consecutive un anno che si chiude in modo positivo dopo mesi difficili e invece troviamo un nuovo modo per fare una polemica per creare problemi all'interno del spogliatoio Lazio intorno all'ambiente Lazio già sono bravissimi gli altri media gazzetta o sport eccetera a creare problemi in casa Lazio se ci mettiamo pure noi allora è un disastro